Avete presente i cerchi nel grano di stampo extraterrestre? Ecco, dimenticateli perché adesso parliamo dei labirinti disegnati nei campi di mais, ma quelli veri. Tutto ciò viene fatto all'interno dell'azienda La Selce Farmhouse di Bagnaria Arsa, che ormai da quattro generazioni è attiva sul territorio con la vendita e la produzione di prodotti agroalimentari, cene a tema e picnico all'aperto. Dal 2014 però è nata l'idea di arricchire l'offerta con la creazione di questi labirinti che permettono di godere di un'esperienza unica. All'interno del labirinto c'è un gioco che aiuta a scoprire il tema dell'anno e perdendosi appunto si va a scoprire qualcosa di più sulla nostra regione. Allora, si vedono, le strade sono molto tortuose, ci sono tante scelte da poter fare. Per esempio qua ci troviamo a Lignano Sabbia d'Oro ed è dove sfocia il fiume Tagliamento, che è il tema del labirinto di quest'anno, le acque della nostra regione. Temi, come detto, sempre volte a promuovere il Friuli Venezia Giulia. Nel 2015 era stato rappresentato per esempio la città stellata di Palmanova, nel 2016 la cartina della nostra regione o ancora in un'altra annata i mosaici della Basilica di Aquileia. L'esperienza del labirinto fa chiaramente parte del circuito delle fattorie didattiche dedicate a grandi e piccini. Ma come si crea un labirinto all'interno di un campo di mais? Realizzare un labirinto è importantissimo partire da un progetto sulla carta. Semplice schizzo che poi diventa sempre più preciso andando a inserire le misure dell'appezzamento in scala, dei punti di riferimento importanti che vengono poi riportati nel campo realmente utilizzando picchetti, spaghi, cordella metrica. Da lì poi si parte a creare corridoi con l'aiuto di qualsiasi mezzo di fortuna, che possa essere una moto zappa, un trattorino, ecco insomma con una fresa. Si vanno a creare corridoi quando le piante di mais hanno circa un 30-40 cm di altezza. Da lì poi la parte importantissima non è solo il percorso, non è solo il disegno, ma è importantissimo il contenuto che è tutto il gioco che viene realizzato all'interno, che va a raccontare quello che non si può vedere se non dall'alto. Iniziativa quindi più unica che rara, ma tutto ciò che esiste possiamo apprezzare oggi frutto del lavoro e dell'attività agricola di famiglia di Claudio Tosoratti Candussiopia, che negli anni si è sviluppata promuovendo anche altre attività, oltre i labirinti come accennavamo, dalle camere per un bed and breakfast, alle cene a tema, picniche anche che fanno parte della strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Quest'anno sono tutti realizzati all'interno di un secondo labirinto che Fabio ha realizzato, un labirinto in un giardino fiorito dove c'è una fiorittura a scalare dalla primavera a fine ottobre di fiori amici degli insetti impollinatori. Quindi è un labirinto che rientra un po' totalmente anche nella nostra filosofia di azienda sostenibile.